E' l'isola che c'è, puoi sbarcare anche te Non importa da dove scappi, ne prendiamo tiotti L'isola che ti fa dove una sala d'aspetto Questi sono amanti, non appartiene a noi Tu, l'ascoltatore di una specie di mia distinzione Come puoi accettare questo andazzo? Tu, l'ascoltatore di una specie di mia distinzione Vi ricordate la Britannia? Come Rai Verde, Celti ovunque, dove sono adesso? Angli e Sassoni, poi fra i coglioni I certi emarginati non sono più tornati Lo stesso in Nord America con i poveri indiani E le riserve sono finiti come coglioni Ovunque è la stessa triste storia Quando la gente in massa Usa la porta La retorica non ci salverà da una fine annunciata Noi deboli e pesci ci faranno lessi Ma il futuro, sapete, difende ancora da noi Un popolo in pericolo, un popolo vessato La retorica non ci salverà da noi Ok, un venudo a meglio ok Marshall da studio al valvolare MG15DFX con gli effetti qui ho messo il riverbero questa è una chitarra che ho preso usata che è stata tutta rifatta quindi pick up e ispira che sono ispira sono artigianali italiani si possono splittare perché sono due single coil uno sopra l'altro ha cambiato pure le meccaniche sono PRS pare che abbia cambiato tutto il suono è discreto il suono è discreto questa è una chitarra che costa 170 euro però con tutti l'ho presa poco perché nessuno si compra le chitarre modificate è ispirata come concezione all'elryspole special però quelli hanno il P90 questi sono single coil quindi bobina single qui ha quello per splittare e questo è la canzone mi sembra chiara la canzone mi sembra chiara quindi non è sicuro siamo non è sicuro è sicuro qui